Prima della partenza di una gara importante, la tua dolce metà ti chiama in preda a un attacco di nostalgia e ti chiede di cantarle la vostra canzone. Cosa fai? Le dico che la chiamo dopo la gara perché è troppo importante per me. La nostra canzone, per telefono, la cantarò, la cantarebbe, ma solo a lei, non a voi. Non mi preoccupo di questo perché non potrà mai accedere. Se sei la ragazza di un pilota, a tutte cose non posso fare. Sono stonatissimo, a mio spot sono lei. Sono orgogliosamente romagnolo e lavoro da sempre con degli Evigliani e io gli canto Romagna a me. Grazie a tutti. Grazie.